Salve! Forse non tutti volete vedere pupazzi, marionette e cose varie. Forse non tutti volete vedere sketch, viaggi in zoo, in musei o chi che sia. Forse alcuni di voi vogliono solo giocare ai videogiochi o guardare video ad essi relativi. È per questo che oggi nasce un piccolo canale secondario esclusivamente dedicato ai videogiochi, dove potrete trovare principalmente delle mini recensioni di videogiochi o dei video sui videogiochi in generale. Quindi, senza ulteriore indugio, vi presento la mirabolante vetrina del videogioco. Buona visione! È da un'altra parte, non qua. Quindi buon viaggio e buona visione!